Ciao ragazze, questo video sarà molto veloce solo per farvi vedere due creazioni che ho completate ieri sera, anche se in verità le ho iniziate poi sabato. Ho preso ispirazione dal nuovo giornale creativa con perline, il bimestre numero 10. Diciamo sì che mi è abbastanza piaciuto, anche se mi ha un po' deluso perché ci sono pochi progetti veri e propri con il peyote. E niente, io ho preso ispirazione per questi due ciondoli in copertina, dove in pratica hanno messo queste base di retina, incollato una lavorazione embroidery con questo cabochon che è stato colorato con i colori della Pebeo. Io ho deciso di non utilizzare i colori della Pebeo, ma di utilizzare dei cabochon che avevo già, o dei cameo che avevo già in casa e ne ho realizzati due. Allora, adesso metto un attimo qua questo. Allora, il primo è questo qua, che appunto vedete ho utilizzato la stessa retina che ho trovato qui nel negozio a Mannate, sabato mattina, subito dopo essere andata in edicola. Neanche farla apposta ho trovato la stessa retina, appunto, mentre stavo andando a comprare degli svaroschi, e ho deciso di acquistarla. Questo invece è un cabochon che ho preso in fiera. Allora, diciamo che il tutto è molto più rosa, poi la telecamera ovviamente un po' oscurisce i colori. E niente, ho realizzato questo ciondolo con questi due angioletti, che sono dipinti ed è un cabochon veramente bellissimo. E niente, l'ho incollato su una base di alcantara, successivamente ho incollato tutto su un'altra base di alcantara, dove ho posizionato sotto il cabochon anche questo specie di nastrino, chiamiamo così anche perché in verità non so esattamente come si chiami. E poi, niente, poi l'ho incollato e quando era asciutto ho fatto solo un giro di perle da 4 mm rosa, per richiamare i colori del camio. Ecco, forse così si vede un po' meglio. E niente, poi alla fine ho rincollato tutto su un'altra base di alcantara, mettendo questo occhiello con la fettina per il sautage. E niente, è davvero molto molto carino e particolare. Poi, ho realizzato anche questo qua, con questo cabochon di plastica che avevo in casa, ho preso anche questo qua alla fiera. In questo caso ho utilizzato un nastrino nero. e poi ho decorato così, con una prima striscia di catena con gli svaroschi, incollata. Adesso non so se riuscite a vedere. E successivamente, visto che comunque aveva dei castoni tutti colorati, ho messo un giro di svaroschi con, diciamo, una rocaille da 15.0 nera per fare la puntina. Anche qua, vediamo. Ecco, forse qua si vede bene. Stessa cosa, ho utilizzato invece dell'alcantara un feltron, dove ho incollato il tutto. Ho incollato anche la base dietro e sempre con una fettina piccolina per il sautage, ho fatto un occhiello e ho assemblato il tutto. È davvero molto bella. Entrambi sono due bei ciondoli. Io ho conto di realizzare delle collane veramente carine con queste qua. Oggi ho in mente delle catene in casa un po' particolari. Ecco, il primo. Ecco, forse così la luce è perfetta. Il secondo. E niente, ragazze, questo è tutto. Volevo soltanto mostrarvi cosa avevo creato grazie ad uno spunto preso dal giornale Creativa con Perline. Per ora è tutto, vi mando un bacio. Ciao!